Calano gli infortuni nel settore edile, nelle marche. Il lavoro fatto in questi anni sulla formazione è servito, dicono Inail e Edilart, che hanno curato l'indagine. Ma serve un ulteriore passo in avanti per aumentare la consapevolezza dei rischi. Ci dice di più Guido Maurino. L'ultimo caso è di ieri. Un lavoratore si è sentito male su un'impalcatura ed è stato soccorso dai vigili del fuoco. Gli incidenti sui cantieri edili sono in calo del 7% rispetto all'anno precedente, ma sono ancora tanti, troppi. Sono stati 1.145 nel 2018, di cui 4 casi mortali. Nel primo trimestre del 2019 si sono registrate 294 denunce di infortuni e un morto. Eppure la sicurezza sui cantieri marchigiani sta aumentando, affermano Inail e Edilart Marche, che puntano sulla formazione con il progetto Cantieri Sicuri. È stata posta particolare attenzione a quelle che sono le reali esigenze di quel lavoratore. Di conseguenza abbiamo una formazione che consente al lavoratore effettivamente di avere una percezione del rischio maggiore rispetto alle attività che svolge in quell'azienda. Quando si parla di infortuni sul lavoro c'è un tema che riguarda le aziende, il rispetto delle norme, ma c'è anche la responsabilità dei lavoratori che spesso tendono a sovrastimare la propria esperienza. 4 lavoratori su 5 sono consapevoli che fanno un lavoro pericoloso, ma quando gli viene chiesto se hanno paura di farsi male, appena 1 su 2 riconosce il rischio. Sono ancora troppi, anche se in calo, quelli che non accettano di buon grado le protezioni individuali. La nostra azione è proprio questa, di stimolarli in maniera costante perché questo rischio non venga mai dimenticato. Purtroppo non sempre questa cosa c'è, i corsi di formazione sono lo strumento principale, non ne facciamo più di 100 all'anno.